pace bene cari fratelli e sorelle benvenuti quarta domenica del tempo di pasqua è chiamata la domenica del buon pastore si merita infatti sul capitolo 10 del vangelo secondo giovanni dove appunto gesù applica se questa immagine meravigliosa del pastore e oggi anche una seconda immagine della porta dove ci troviamo nel vangelo gesù appena guarito il cieco nato quest'uomo è stato cacciato fuori dalla sinagoga per aver professato la sua fede in gesù e i farisei accusano gesù in un certo modo di essere un impostore gesù inizia nel brano proprio di oggi dicendo di sé ma guardate che alla fine chi non entra per la porta è un ladro e un brigante ma chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore gesù in modo semplice cosa sta dicendo guardate che non sono un imbroglione non sto cercando di venire a voi con raggiri dicendo di essere qualcuno che non sono io entro dalla porta entro attraverso la porta delle scritture cioè la scrittura parla di me se uno vuol capire capisce le mie opere sono lampanti e colui che entra dalla porta è il pastore delle pecore a noi questa immagine dice poco ma se andiamo all'epoca di gesù anzitutto aveva un forte significato biblico perché nell'antico testamento il gregge è il popolo di dio il pastore è dio salmo 23 signore il mio pastore non manco di nulla quindi era un'immagine forte che gesù sta applicando se l'immagine proprio di dio poi è stata applicata anche a coloro che avevano e hanno il compito di guidare il popolo di dio i pastori prima il re poi nel popolo santo del signore i sacerdoti i suoi ministri gesù sta applicando a sé proprio l'immagine di dio ed era anche una forte immagine simbolica perché perché se ci pensate la pecorella ha bisogno del pastore perché il pastore la porta a pascolare la protegge la cura ecco è un'immagine tenerissima bella quella del pastore e ci ricorda che noi siamo tutti delle pecorelle che hanno bisogno di un pastore che le guidi di essere protetti di riscoprirci custoditi amati ecco il signore dice io sono il pastore e lui colui che si prende cura di noi che ci conduce che ci guida e cosa fa questo pastore ci dice successivamente il testo il guardiano gli apre le pecore ascoltano la sua voce e gli le chiama ciascuna per nome e le conduce fuori vedete questo pastore che il signore ci guida attraverso la sua voce cioè attraverso la sua parola che risuona soprattutto nel vangelo che la chiesa annuncia ecco questa parola però va accolta ci vuole un guardiano che apra ognuno di noi ha dentro di sé questo guardiano è il nostro cuore ognuno di noi è chiamato ad aprire il cuore a queste parole del signore e a lasciarle entrare dentro di sé a far spazio alla parola di dio e spesso e volentieri noi viviamo in superficie o peggio ancora viviamo fuori di noi stessi tutti presi a soddisfare piacere o a vivere secondo la mentalità del mondo se ci facciamo caso anche all'interno della scrittura il tema dell'andare del rientrare in profondità fondamentale pensate al figlio il prodigo ridotto nella miseria il vangelo dice rientrò in sé stesso prima dove era fuori di sé ecco noi a volte possiamo vivere così totalmente fuori da noi stessi invece l'opera del signore la sua parola se la accogliamo cosa fa ci riporta al nucleo essenziale del nostro essere ci porta in profondità ci sveglia da quel sonno da quell'abbioccamento che viviamo ci porta a seguire altri falsi pastori che non ci portano di certo alla libertà e cosa fa questo pastore le conduce fuori ci conduce fuori da che cosa da questo recinto nel caso di israele questo recinto era questa legge questo modo di vivere una relazione con dio non autentica ma in questo recinto vedeteci ogni tipo di recinto di schiavitù nella quale noi siamo con i miei schemi che mi bloccano con le mie paure con le mie abitudini sbagliate con i miei vizi insomma il signore cosa fa ci viene a liberare non a portarci da un recinto a un altro dalla schiavitù a un'altra ma ci viene a tirar fuori ci propone un cammino di libertà che dura tutta la vita questo pastore continuando a leggere il testo cammina davanti alle pecorelle e le pecorelle seguono perché conoscono la sua voce mentre invece non seguono l'estraneo vedete in genere i pastori non vanno davanti al greggio stanno dietro gesù invece non fa così perché perché gesù non ci obbligano li a spingere obbligare il signore ci viene a liberare ci propone di seguirlo ma a noi la libera risposta noi possiamo dire sì o dire no a questa voce a questa presenza possiamo deciderci o meno a seguire gesù noi pensiamo che ragionando e facendo di testa nostra o seguendo le mode del mondo siamo davvero liberi qui funziona al contrario se io seguo qualcun altro seguo la parola di qualcun altro questo signor qualcun altro mi porta alla libertà vera c'è però da conoscere la sua voce quante volte quando sentiamo il vangelo o ci viene spiegato siamo ad una catechesi e ci viene annunciata la verità per quanto esigente possa essere dentro di noi diciamo ecco è vero ecco riconoscere la voce della verità riconoscere gesù e significa anche imparare a rifiutare le false voci ma fuggire via da loro vedete quali sono queste false voci sono le voci del maligno sono le voci della tentazione sono le voci delle nostre voglie sbagliate sono le voci del mondo delle persone che ci danno consigli sbagliati ogni scelta significa seguire una parola esempio prendiamo gli immigrati le chiacchiere che ci sono fuori e ma questi vengono a toglierci lavoro e ma questi sono pericolosi e ma se ne stessero a casa loro aspetta queste sono le voci traviate ma la voce del pastore qual è ero forestiero e mi avete ospitato punto seguire il pastore capite seguire la voce del pastore in mezzo alle tante voci alle tante chiacchiere interne o esterne si tratta di scegliere se essere pecorelle di gesù essere pecoroni nel del mondo o ci massifichiamo diventiamo più uguali tutti fanno così dobbiamo farlo tutti tutti vestono così dobbiamo vestire tutti così finire fotocopie come diceva carla cutis o seguire il pastore che ci rende liberi e autentici davvero perché questa accade noi abbiamo bisogno di scendere vi dicevo prima nel nostro cuore di aprire il cuore alla parola di dio anche quando meditiamo il vangelo per esempio quotidianamente non è soltanto leggerlo a posto la so perfetta no e fermarmi e leggere e fare mia quella parola e meditare su quella parola e lasciarla entrare nel mio cuore perché divenga la sorgente del mio agire così saprò e sarò sempre più forte nel riconoscere tra le tante voci la voce del pastore seconda immagine che cercherò di concretizzare più possibile dato che non capivano gesù dice io sono la porta se uno passa entra attraverso di me sarà salvato entrerà uscirà e troverà pascolo cosa significa allora la porta cosa serve guardate una porta la porta serve a farti entrare in un altro ambiente o uscire ecco gesù è una porta che ti permette ci permette di entrare in una relazione piena con dio cioè se io credo in gesù entro in relazione piena con dio dio entra in me e sono salvato trovo ristoro ma questa è anche una cosa molto concreta nelle nostre scelte quotidiane perché vedete noi tante volte viviamo rinchiusi in noi stessi tra le nostre quattro mura passando attraverso di lui io posso entrare sia in relazione con dio e sia entrare in relazioni autentiche con gli altri concretizzo perché è importante esempio io vivo rinserrato nella paura di morire se io incontro gesù se io mi apro la fede lui passo attraverso questa porta entro in una relazione piena con dio ed esco da questa schiavitù della paura per esempio della morte scopro e vivo pian piano la morte come incontro con mio padre oppure pensate nelle relazioni fraterne io ho litigato una persona nutro rancore verso qualcuno con le mie sole forze io non riesco ad andare oltre c'è un muro tra me questa persona cosa ho bisogno per incontrarla che oltre al muro ci sia una porta perché altrimenti io non riesco a passare dall'altra parte ecco questa porta chi è questa porta è gesù che vuol dire passare attraverso gesù prima cosa mi rivolgo a lui prego il signore per questa persona e per me che mi dia la forza sentimenti nuovi nel cuore secondo cosa mi dice di fare gesù nel vangelo cosa mi dice perdonate e sarete perdonati nella misura con cui misurate gli altri sarete misurati voi dunque per entrare in relazione con questa persona attraverso questa porta che è gesù quel gesù che ci dice di essere venuto a darci la vita ed essere venuto a darcela in abbondanza ecco gesù è la via per una vita piena c'è una porta per uscire dalla nostra solitudine la nostra incapacità di amare dalla nostra paura della morte quella porta è gesù c'è un pastore che ci libera dalle nostre schiavitù e passo passo con la sua voce la sua presenza ci guida il punto però qual è che il guardiano che c'è dentro di noi sappia riconoscerla sua voce accoglierla e seguirla così saremo condotti alla vita piena pace e bene a tutti